L'ultimo atto sul Gran Sasso è stata la bocciatura dell'Ordine del Giorno delle Minoranze nel corso del Consiglio Comunale straordinario. Era una proposta di aiuto al Comune con delle proposte serie, hanno ribadito i consiglieri comunali in conferenza stampa, ma tutto è stato bocciato. L'opposizione chiedeva sostanzialmente una conferenza programmatica per parlare di tutti i problemi del Gran Sasso e un tavolo, per ascoltare i pareri dei tecnici in merito alla cabinovia che loro avevano proposto a sostituzione della funivia, per loro forse obsoleta. Noi avevamo chiesto di dare la parola ai migliori esperti e ai migliori tecnici d'Abruzzo e del Paese per fare due cose. Una conferenza programmatica sul Gran Sasso in modo che si potessero analizzare tutti i diversi aspetti sul tema e un tavolo tecnico per sondare la fattibilità della nostra proposta di sostituire la funivia con una moderna cabinovia a doppia fune portante. Lo sconcerto è che anche davanti alla richiesta di acquisire il parere di esperti, questa amministrazione centrodestra si è chiusa a riccio. Ci sono state peraltro risposte delle cose assurde. Per esempio che l'anno prossimo partiranno i lavori per l'impianto Fossa di Paganica Scindarella. Sappiamo che purtroppo è un sogno, un miraggio, è una vera fregnaccia perché con l'attuale quadro di norme e procedure che peraltro si è inasprito passando in ZSC non sarà possibile avere questo tipo di tempistiche. L'altra cosa noi ci chiediamo, rispetto a tutti coloro che nella stagione estiva non usano la funivia proprio per i disservizi e comporta e salgono autonomamente in quota, si registrano circa 60.000 macchine l'anno che salgono in quota con il relativo impatto ambientale. Come pensa questo centrodestra di risolvere il problema? Noi avevamo messo in campo una proposta che richiedeva degli approfondimenti, ripeto, che richiedeva di dare la parola agli esperti. Quest'amministrazione si è chiusa a riccio. A questo punto noi vogliamo sapere cosa loro concretamente, al di là delle promesse finte che fanno, pensano di fare per la nostra montagna.